Prezzi ribassati, animazioni per bambini e spettacoli per adulti. C'è grande attesa per la notte dei saldi organizzata dal Comitato Apriamo il Centro e patrocinata dal Comune di Fano. La serata, prevista per sabato 5 luglio, ha l'obiettivo di movimentare il commercio, soprattutto nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, ma per molti sarà anche un'opportunità per risanare i bilanci a rischio dopo il calo di consumi dell'ultimo periodo. Quest'anno siamo alla terza edizione, il programma ce l'abbiamo qui pronto nelle mani, speriamo innanzitutto il tempo che ci assista. Abbiamo fatto uno sforzo anche molto grosso quest'anno per poter organizzare questa manifestazione, perché specialmente i commercianti è una giornata molto importante per loro, perché già un periodo è quello che è. Questa manifestazione vuole portare gente in centro, vuole portare gente che ha voglia di fare acquisti, e ha voglia di fare anche una bella passeggiata in centro, stare lì tranquillamente, fino a tardanotte. Speriamo che quest'anno si ripeta il successo degli anni scorsi. Tante iniziative collaterali come animazioni, musica, eventi, mostre. Sì, diciamo subito che questa manifestazione è solo discussionemente per i commercianti. Poi il comitato ha messo in piedi varie iniziative per aglietare chi viene in centro, per dare la possibilità alla gente anche di lasciare magari i bambini insieme alla compagnia Tiremolla per fare un po' di animazione. Loro possono anche guardare qualche vetrina in pace. Oppure in piazza c'è la Micios, band che suona, poi ci sono tanti altri punti, via Cavour, piazza Costanzi, Corso Matteotti diviso in più punti. Il Narco d'Augusto, poi il Narco d'Augusto c'è anche la Manifestione Repubblica che è inserita, ormai fa parte, non è che fa parte del nostro programma, però sono già due anni che la fanno, sempre quelle giornate lì. C'è la lirica sotto le stelle alla Corte Malatestiana, quindi ci sono tanti eventi che gli eteranno la serata alla gente e speriamo che l'evento abbia successo che ha avuto negli anni passati.